E' forse questa una delle immagini simbolo della difficile notte vissuta a Silea con un'anziana tratta in salvo dalla sua abitazione da un gommone dei vigili del fuoco. E' più o meno la mezzanotte quando le strade del centro, via Roma, via Macello e altre diventano un fiume. A esondare in particolare è il torrente Melma che tocca quasi tre metri. Nessuno scampo per i piani terra delle immediate vicinanze, la conta dei danni è iniziata con la luce del giorno e con essa anche le polemiche. Un bel disastro sì, soprattutto perché non l'avevamo previsto e quindi non avevamo messo né parattie né niente. Adesso dobbiamo ancora quantificare bene i danni, però anche qui in agenzia essendo un po' più alti non erano mai entrate, invece stavolta mi è entrata giusta a livello delle prese. Acqua sporca più che altro. Anche perché noi abbiamo la Melma che circonda praticamente tutta la zona e ancora prima che esondasse dalla parte davanti aveva già praticamente circondato tutto quanto lo stabile. L'acqua è arrivata fino a qua. Un fiume, un fiume. Magari se si pensava un po' prima di prendere provvedimenti dopo che invece è tutte le volte così. Per la seconda volta ci è successo che c'erano i volontari della protezione civile, molto disponibili, ma non avevano il materiale, cioè i sacchi, i sacchi di sabbia, costo minimo. Coinvolta anche la casa di Lias Polverato che a Silea è consigliere di opposizione. Non c'è mai stato in tutti questi anni un coordinamento fra il comune di Silea e il comune di Carbonera in merito proprio alla gestione delle paratie nei pressi della centrale idroelettrica a Carbonera che veramente regola il flusso del Melma. Eppure, dice Spolverato, nei cassetti del comune ci sono dei progetti che evidenziano la problematica che di certo è complessa. Poco distante la sindaca Rossella Cendron si reca casa per casa comunicando i servizi straordinari di Contarina. Il suo è un forte jacuzzi con nomi e cognomi. Io ripeto, anche in maniera provocatoria, ma giustamente provocatoria, dobbiamo avere la collaborazione con gli enti preposti. Dalla Regione Veneto al Genio Civile, al Consorzio di Bonifica, i comuni, i sindaci non possono essere lasciati soli di fronte a questo fenomeno. Lei chiede lo stato di emergenza? Sicuramente, lo stato di calamità naturale, adesso stiamo attivando le procedure. Procedure che serviranno a sbloccare eventuali rimborsi. Tra le vie di Silea c'è chi ha perso molto. Io e la mia compagna sono i risparmi, viviamo qui da due anni e tutto qui, bastano. Tutto distrutto? Tutto distrutto, mezzo metro di acqua dentro casa. Faremo di tutto per poter, diciamo così, limitare i danni. Quello che dobbiamo imparare da questa lezione è che per la prossima volta dobbiamo essere pronti. Grazie. 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 Grazie.